Buongiorno a tutti, lezione numero 24. Oggi iniziamo a parlare di alberi, è un argomento che continueremo la prossima settimana, possibilmente anche nelle lezioni da due ore, perché ci avviamo verso i termini della parte delle interfacce grafiche e quindi dobbiamo cominciare a andare veloci, a dedicare più tempo alla parte di tecniche e algoritmi che così da darvi anche gli strumenti per realizzare gli algoritmi nei vostri progetti. Progetti che vi ricordo inizieremo, meno di stravolgimenti dell'orario causati da possibili dpcm, inizieremo laboratori virtuali prossima settimana, lunedì e martedì. Secondo delle modalità che devo ancora comunicarvi, modalità di organizzazione intendo, dividerci il tempo sui progetti. Prima di iniziare questo nuovo argomento oggi vi faccio notare che sulle slide sono presenti dei problemi numerati con dei titoli e con dei punteggi di esame assegnabili che sono quelli che voi dovete scegliere per l'esame, ovvero in questo modulo, modulo di tecniche algoritmiche, quindi in tutte queste 271 slide, sono disseminati dei problemi sotto forma di slide dal titolo rosso, insomma slide con il tema rosso. Ovviamente questi sono problemi che sono attinenti a quello che si è appena fatto, quindi abbiamo discusso le tecniche di programmazione di videotimpera, dinamica e gridi e qui ci sono una serie di problemi su queste tre tecniche. Non sempre si dice risolvi questo problema con quella o piuttosto quell'altra tecnica. A volte la strada è obbligata, cioè a volte un problema si presta proprio bene a essere risolto con una di quelle tecniche, altre volte si possono usare anche due o più tecniche. In ogni caso sono problemi che voi potete scegliere. Non ci saranno solo questi problemi, ma ce ne saranno anche altri, cioè per ogni argomento che noi svolgiamo c'è almeno una slide con un problema assegnabile. Il numero dei problemi totali è abbastanza elevato. Nel file assegnazioni che sta su Google Drive, all'interno della cartella problemi, c'è la lista di tutti i problemi che sono 34 o meno 3, sono 31, 32 perché ho contato gli indici, 32 problemi con un numero massimo di assegnazioni pari a 2. Quindi queste sono le regole dell'esame, quindi 32 per 2 64, voi ovviamente non siete più di 64, quindi è possibile che tutta la classe ha la possibilità di scegliere il problema. Ce n'è per tutti. I problemi sono qui elencati, hanno il numero delle sezioni relative agli argomenti che svolgiamo nel corso e questi sono i problemi relativi alla parte di tecniche algoritmiche, quindi i dividetti impera, programmazione dinamica e programmazione credit. E poi ci saranno altri problemi di altri argomenti. Come funziona la politica di assegnazione? È un po' come i progetti, cioè chi prima arriva ovviamente io l'assegno. Certo, qui non serve, credo, che voi andate troppo di fretta, anche perché il problema è una cosa che si porta all'orale, quindi uno deve comunque prima fare il progetto, voglio dire, potete assolutamente prendervela con calma per assegnare i problemi perché comunque è la parte finale dell'esame. Ciò detto che se qualcuno vuole accaparrarsi a un problema in questo momento non può fare ovviamente, io metterlo presente dall'email, dall'ordine delle email che mi arrivano. Però ripeto, non è come progetti di problemi, ce n'è tanti, ce n'è per tutti, si risolvono alla fine con un po' di sforzo, lo fate tra l'altro in individua autonomia. Diverso sarebbe un esame scritto in cui questi problemi si chiede di svolgerli al momento, cosa che si fa normalmente negli esami di algoritmi e strutture dati come quello che ho svolto io e che si svolge in altre università. Io in questo corso, per motivi di complessità dell'esame, chiedo un progetto comunque molto complesso, non posso anche chiedere lo scritto di questo livello, altrimenti sarebbe un esame davvero troppo sbilanciato rispetto ai crediti messi a disposizione. Quindi il problema lo svolgete in autonomia, ovviamente io all'orale mi accerto che voi il problema in primis l'abbiate fatto voi e se avete tratto ispirazione da internet comunque lo dovete sapere bene il problema, cioè dovete averlo capito, la soluzione eccetera. Quindi comunque una cosa l'avete imparata, o avete tratto ispirazione o l'avete fatto voi, si spera qualcosa sicuramente dovreste averle imparate. Quindi iniziamo l'argomento di oggi. Avete domande sui problemi? È momento di farle? Volete farle? Potete farle anche dopo, potete farle in privato, comunque le regole dei problemi sono quelle che abbiamo discusso all'inizio del corso. Bene, quindi apriamo questo capitolo ed è un capitolo che ci porterà lontano, perché in realtà i grandi due argomenti, i principali due argomenti che ci rimangono da svolgere nella parte teorica, che sono in realtà i due argomenti più importanti della teoria del corso sono gli alberi e i grafi. Gli alberi servono in tantissime situazioni, tra le quali i giocatori artificiali. Non solo, ma per esempio, quando noi abbiamo usato il set, lo abbiamo usato per il notepad e in generale comunque il set si usa anche per altre necessità. Quando usiamo dei contenitori di elementi ordinati che devono darci una risposta pressoché istantanea per la ricerca, per l'inserimento, la cancellazione di elementi, gli alberi sono una scelta quasi obbligata. Il set, per dire in CPS Plus, è implementato in tutti i compilatori, perché sono i compilatori che implementano i linguaggi, è implementato con alberi binari di ricerca, in particolare alberi rossoneri per la felicità dei milanisti. Quindi è un argomento assolutamente importante. La lezione di oggi cerca di darvi un'infarinatura, quindi non introdurremo oggi noi delle strutture già pronte all'uso, ovvero alberi di ricerca, o alberi per giocatori artificiali, o alberi per l'estrazione di minimi massimi per code di proprietà. Quelli li chiameremo KIP, sono degli alberi particolari. Quelli li sono gli argomenti che tratteremo dalla prossima settimana. Oggi cerchiamo di dare di nuovo un'infarinatura, una lista della spesa, magari sarà un po' noioso a tratti perché dobbiamo introdurre delle definizioni. Un po' sarà la stessa cosa con i grafi, ci serve introdurre delle definizioni che poi useremo per capire le parole chiave che usiamo nelle nostre descrizioni degli algoritmi. Quindi cos'è un albero? Un albero è formato sicuramente da almeno una radice, tutto parte dalla radice, e da questa della radice si diramano degli archi verso i nodi che si chiamano figli. Quindi questo fa capire che c'è una relazione gerarchica, e questo è importante ragazzi perché a volte gli studenti fanno confusione con i grafi, nei grafi non c'è una relazione gerarchica, lo vedremo. Negli alberi sì, cioè dalla radice si diramano i figli e ogni figlio a sua volta può essere collegato ad altri figli. Quindi è come un albero genealogico, alla fine l'analogia è perfetta. Quindi questo è l'antenato comune di tutti i nodi da cui si diramano i suoi discendenti e così via e così via. Ora, in questo slide non è presente una definizione ricorsiva, però io vi dissi quando facciamo la ricorsione che un giorno avremmo definito gli alberi utilizzando una definizione ricorsiva. Lo possiamo fare, perché per esempio, lo posso dire a voce, nonché una cosa che chiedo all'esame della storia da voce che sono cattivo, è giusto per chiudere il discorso, più che chiudere e estendere il discorso sulla ricorsione, perché gli algoritmi sugli alberi sono tutti ricorsivi e sono ricorsivi perché l'albero è una struttura ricorsiva. In realtà la definizione di albero ricorsivo l'abbiamo un po' data quando abbiamo fatto la ricorsione, perché vi ricordate, vi faccio vedere l'immagine appunto dell'albero che si dirama dalla radice, dal tronco, eccetera. E allora come si può definire un albero in maniera ricorsiva? Un albero è formato o da nulla, sembra una cosa strana, lo so, ho capito, quindi un albero è o un insieme vuoto oppure è formato da un nodo che è connesso ai suoi figli detti sottoalberi. Questi sottoalberi a loro volta sono degli alberi. Vedete, è un po' come GNU is not Unix, cioè una definizione definita in funzione della definizione stessa. Cioè un albero è o l'insieme vuoto, e poi capiremo perché ci serve questa definizione, oppure è formato da un nodo connesso a dei sottoalberi, cioè questi sono a loro volta degli alberi. Quindi un nodo è connesso ai sottoalberi, ma questi sono alberi, quindi questo è un nodo connesso ai sottoalberi. Quindi questi sono alberi, questo è un nodo connesso ai sottoalberi, quindi questi sono alberi e qui arriviamo all'insieme vuoto. Questi nodi qui, che non sono connessi a nessun altro sottoalbero, ovvero sono connessi a sottoalberi vuoti. Ecco l'insieme vuoto a che cosa serve. Questi sono dette foglie, cioè i nodi che non hanno figli, o meglio che hanno sottoalberi vuoti, sono dette foglie. Questa è una foglia, questa è una foglia, questa è una foglia e così via. Quindi viceversa, nodi che invece hanno dei sottoalberi almeno uno, non sono ovviamente delle foglie, sono dei nodi, sono le radici dei loro sottoalberi. Quindi anche il termine radice non c'è una sola radice, c'è la radice di questi sottoalberi e ogni sottoalbero a sua volta contiene la radice dei suoi sottoalberi e a sua volta la radice del suo sottoalbero. E questo in realtà è la radice di un sottoalbero vuoto, quindi è una foglia. Quindi vedete perché è una definizione ricorsiva, è come GNU is not Unix, un albero è un nodo connesso dei sottoalberi, che sono a loro volta appunto degli alberi. Comprendo che è un po' un gioco di parole, però alla fine la ricorsione c'è nella natura, come vi ho fatto vedere la relazione sulla ricorsione. A che servono però gli alberi? Non lasciamoci mai sfuggire lo scopo pratico delle cose che diciamo. Gli alberi servono per contenere dati, alla fine siamo ingegneri informatici delle telecomunicazioni, ingegneri dell'informazione e quindi è sempre l'informazione la cosa più importante, il motivo per cui noi facciamo le cose. Quindi l'informazione, cioè i dati sono contenuti dentro questi nodi. Il motivo per cui usiamo gli alberi è perché vedremo che gli alberi sono particolarmente efficienti in termini di complessità computazionale. Quindi cercare un elemento in un albero è molto più efficiente che cercarlo, per esempio, in una lista collegata, piuttosto che in un vettore, che sono le uniche due strutture che conoscete, liste collegate e array vettori. Gli alberi sono la terza struttura, quindi una nuova struttura che stiamo imparando, che vi sto anticipando a essere molto molto efficiente per quanto riguarda le operazioni che si possono fare su una struttura. Quindi l'inserimento di un nuovo dato, l'eliminazione, la ricerca, eccetera. Altre definizioni che ci possono servire è il concetto di livello, ovvero definiamo livello, la lunghezza del percorso per arrivare a quel nodo. Quindi la lunghezza del percorso per arrivare alla radice è 0, perché io ci parto già dalla radice di tutto l'albero. Per arrivare a uno dei suoi figli devo fare almeno un pezzo, uno di qua, oppure uno di qua, oppure uno di qua. Quindi questi nodi si dice che sono a livello 1, anche detto profondità, si chiama anche profondità. Questi invece sono a livello 2 e questi sono a livello 3. L'altezza del labbero è definita come il livello massimo, cioè il percorso più lungo per arrivare dalla radice alle foglie. A volte l'altezza può essere, in questo caso l'altezza quindi è 1, 2, 3, e quindi in questo caso l'altezza sarebbe 3. Ci sono convenzioni, dipende dalla convenzione, in cui non si inizia a contare da 0, ma si inizia a contare da 1, in quel caso l'altezza sarebbe 4. Quindi c'è un po' questa ambiguità, ma non è una cosa così grave. Alla fine l'altezza, che sia n oppure n più 1, non è che cambia molto. L'importante è capire il concetto che l'altezza è la lunghezza del percorso più lungo dalla radice alla più estrema, la più profonda, la più lontana delle sue foglie. Quindi non è questa la foglia più lontana, perché dista solo 2 dalla radice, ma per esempio questa, perché 1, 2, è 3, oppure anche queste, perché 1, 2, 3, 3 e 3. Ci siamo? Ora dobbiamo dare adesso un altro po' di definizioni e poi passiamo a cose un po' meno teoriche, insomma le rappresentazioni sono cose importanti, cioè come rappresentiamo gli alberi, come li memorizziamo, come li codifichiamo nel codice, nel calcolatore. Ci servono queste definizioni perché queste ci consentono di distinguere alberi che hanno delle proprietà particolari da altri che invece non ce l'hanno. Quindi intanto ci serve definire cos'è il grado di un nodo, indicato col delta. Il grado è il numero dei suoi figli. Quindi la radice di questo albero a grado 2, questo nodo a grado 2, questo nodo a grado 1, è un nodo foglia a sempre grado 0, cioè non ha figli, quindi grado 0. Diciamo che l'albero è diario dove ogni nodo ha al più di figli. Per esempio se è di uguale 2 si dice che l'albero è binario. Tutti questi alberi che vedete a sinistra sono tutti alberi binari, perché ogni nodo ha più c'ha due figli, ma in realtà se noi cerchiamo in internet generalmente, per esempio, non cerchiamo un binary tree che sarebbe albero binario, cerchiamo un diari tree, non so se riesco a trovare un'immagine con un albero ternario, penso di averlo trovato, questo per esempio è un albero ternario, perché ogni nodo ha più tre figli, questo ne ha tre, tutti ne hanno tre, ne hanno tutti tre, potrebbero averne anche meno di tre alcuni, però quello è un albero, per esempio, ternario. Questo albero qui, questo è un albero, questo ne ha quattro, questo ne ha due, questo ne ha due, questo ne ha uno, questo ne ha tre, questo ne ha uno, questo quindi, per come lo vedo Dio, in questo momento è un albero quaternario, perché c'è una radice che è, c'è un nodo che ha quattro figli, quindi D è il numero massimo di figli che può avere un nodo in un albero, albero di ario. Ora, questi alberi possono essere di tre tipi, beh, non è detto, possono essere o nessuno di questi tre, oppure questi tre con queste proprietà particolari, pieni, perfetti e completi. Allora, un albero pieno è un albero che in ciascun livello ogni nodo presenta o zero o di figli, che significa, ragazzi, o zero di figli, che non ci sono dei nodi che hanno solamente un numero intermedio di figli tra zero e Dio. Quindi, per esempio, un albero pieno, questo è un albero in cui questo nodo ha un figlio, questo è un albero binario, quindi un albero con D uguale a due, questo è un nodo che ha un figlio, non va bene, non può essere pieno questo albero. Questo, di nuovo, ha un figlio, non può essere pieno, questo ne ha due, questo ne ha due, questo ne ha due, questo ne ha due, quindi tutti i nodi hanno due figli, oppure zero, perché sono delle foglie. Questo è un albero pieno. Questo pure è un albero che ha tutti i nodi, hanno due figli, oppure zero, le foglie, quindi anche questo è un albero pieno. Gli alberi perfetti, invece, e questo è importante, ragazzi, perché ci servirà per l'IP, magari poi lo riprenderemo quando faremo l'IP. Gli alberi perfetti sono quelli in cui praticamente, lo dice la parola, perfetto, è tutto equilibrato, quindi significa, per esempio, che è pieno e in più tutte le foglie sono allo stesso livello. Per esempio, questo era pieno, però questa foglia sta qui, questa foglia sta qui e quindi non è perfetto. Questo pure è pieno, però c'è questa foglia che sta qui e quest'altra, che sta in un altro livello, non è perfetto. Un albero perfetto, ragazzi, è un albero equilibrato e questo concetto di equilibrio in realtà è molto importante perché vedremo che il concetto di equilibrio, che chiameremo sbilanciamento, che ovviamente è sinonimo di disequilibrio, è un concetto che è molto importante per la complessità computazionale degli algoritmi sugli alberi. Quindi un albero, quando un albero è perfetto, o è perfetto a meno di qualche piccola cosa, diremo infatti un albero bilanciato, è un po' una nozione di perfezione leggermente rilassata, allora sarà un albero che avrà tutte le proprietà di efficienza di cui vi stavo parlando. Se invece l'albero non è così, potrebbe essere molto sbilanciato, a quel punto non è più vero che diventano anche una struttura efficiente, come vi stavo dicendo. Comunque su queste cose ci torneremo quando ci serviranno, era ora il momento di presentarvele, ma poi le riprenderemo. Ora, come è possibile memorizzare, rappresentare un albero nel calcolatore? Siamo ingegneri informatici, queste strutture dati non è che ci piace soltanto vederle in figura, ma io sta cosa, come la metto dentro la memoria del calcolatore? Ci sono diverse possibilità. La cosa forse un po' più banale, e anche direi non molto proprio efficiente, è quella di pensare ad un vettore, un vettorone di coppie, pensate ai pair, non è mai usato i pair dell'STL, STD, due punti, due punti pair. Un vettore di coppie che mette in relazione il nome, l'indice dell'etichetta del nodo, con l'indice, per esempio, del padre, quindi questo lo chiamiamo vettore di padri. Che significa? Questo è un vettore, il vettore ha degli indici, ora questo parte da 1, dipende dal linguaggio, nel nostro tipicamente parte da 0, però lasciamo staremo questo dettaglio, parte 1, parte da 0. È un vettore che ha degli indici, ok? Ogni elemento di questo vettore è una coppia che mette in relazione un nodo e l'indice di dove si trova suo padre, quindi per esempio L ha come padre il nodo che si trova alla casella 3, cioè alla casella 3 che trovo A, e infatti troviamo A. Se un nodo non ha padre, ovvero è una radice, allora diciamo che ha come padre il nodo che si trova a indice 0. Ecco forse perché qui lo 0 non è stato usato. Non è stato usato perché è un valore particolare che noi diamo soltanto alla radice, oppure meno 1, si poteva dire anche meno 1 e far partire tutti da 0. Quindi questo è un vettore dei padri, quindi L ha come padre 3, cioè A, B ha come padre 3, cioè A, A ha come padre 0, cioè una radice, O ha come padre 2, cioè B, E ha come padre il nodo che si trova 1, cioè L, e infatti E ha come padre L, R ha come padre 1, cioè L, e infatti R ha come padre L. Quindi questo è il vettore dei padri. È una struttura onestamente poco utilizzata e in realtà una molto molto più utilizzata, che utilizzeremo soprattutto per gli hip e quindi di nuovo ci torneremo qui, è la struttura, sempre un vettore, però è una rappresentazione indicizzata. Ovvero ragazzi, se ci fate caso, questa struttura non ha una regola. Questo vettore dei padri, io avrei potuto anche mettere i nodi in un altro ordine. Ovviamente sarebbero cambiati gli indici, ma si poteva fare, cioè non c'è un ordine preciso in cui inserire i nodi in questo vettore. E questo è un problema, perché se non c'è un ordine preciso, se non c'è un criterio preciso, significa anche che io non ho un criterio preciso per trovarli questi nodi. Cioè se devo trovare le foglie, dove stanno le foglie? Perché ne so dove stanno le foglie? Boh, devo scorrere questo albero, costruirmi delle cose in testa per capire dove stanno queste foglie. Cioè non è immediato capire chi e cosa e come e dove sta. È una struttura che lascia troppa libertà. Invece la rappresentazione indicizzata, sempre mediante vettore, mediante array, è univoca. Cioè dato un albero, la sua rappresentazione indicizzata può essere soltanto una. Mentre nel caso precedente dipende da come uno ha messo i nodi nel vettore. Quindi c'è una regola, c'è una regola posizionale. Intanto di nuovo in zero non ci vuole niente. Poi la prima posizione quindi non è utilizzata e poi c'è una regola per dire dove mettere i figli e dove mettere i padri. In realtà è una regola speculare, cioè definiti dove mettere i figli, la regola diventa anche poi invertibile per dai figli arrivare al padre. E la regola è questa. Sia j il diesimo figlio tra 0 e di meno 1, iniziamo a contare da 0, quindi un albero binario j va da 0 a 1. Quindi sia j il diesimo figlio del nodo che si trova in i. Allora la regola posizionale dice che il j il diesimo figlio si troverà in posizione d per i, dove i è l'indice del nodo corrente, noi siamo il padre di questo figlio, più j. Quindi significa che si parte per forza dalla radice, perché la radice è quella che non ha figli, scusate non è quella che non ha figli, è quella che non ha padre. Perché questa regola invertita dà che il padre di i è i diviso d. Quindi dobbiamo partire dalla radice, la radice va messa sempre come primo nodo del nostro array dopo 0, a questo punto dalla radice dobbiamo mettere om nelle posizioni indicate dalla regola. Quindi o è il figlio con j uguale 0, quindi devo fare d e 2 per i 0, più j 0, no, mi sono, ok, i non è 0, noi siamo la c, siamo la radice, i è 1, quindi d per 1, quindi 2, più j fa 0, dobbiamo metterlo o in posizione 2, m invece è più j 1, il figlio con j uguale 1, quindi in posizione 3, e poi a questo punto p è il figlio 0 di d per i, di o, o a come i 2, quindi d per i 2 per 2 fa 4, e quindi p si mette in posizione 4, più j 1, il secondo figlio di o l in posizione 5, poi abbiamo e che è il primo figlio, quindi j uguale 0 di m che ha per indice i 3, quindi 3 per 2, 6, più j 0 fa 6, quindi e sta in posizione 6 e con j 1, posizione 7 da t. Invertendo questa regola le cose funzionano ancora, e questo è bello di questa struttura, che non solo io so esattamente dove andare a mettere i figli, ma dato un figlio so esattamente dove sta il padre, il padre di i è la parte intera inferiore di i diviso d, quindi per esempio il padre di t, che è 7, è la parte intera inferiore di i diviso 2, quindi 7 diviso 2 è 3,5, la parte intera inferiore è 3, quindi il padre di t dovrebbe stare in posizione 3, e infatti in posizione 3 troviamo m, continuando così il padre di m sta in 3 diviso 2, 1,5, 1 parte intera inferiore, quindi il padre di m sta in posizione 1, e in effetti è proprio c. Quindi tra l'altro il padre di c, che è la radice, sarebbe 1 diviso 2, parte intera inferiore 0,5 è 0, e infatti 0 per noi è l'inizio, è assegnato, come abbiamo fatto prima, il padre della radice è 0, come abbiamo fatto in questo caso. Ok, quindi questa è la rappresentazione posizionale, mi rendo conto che così una memoria non è che si ricorda questa regola, però ci ritorneremo quando parleremo di YIP, perché gli YIP sono appunto rappresentati con questa regola. Poi ci sono le rappresentazioni collegate, ragazzi ricordate che quando parliamo di calcolatore le rappresentazioni sono tipicamente sempre due, o uso gli array o uso i puntatori, cioè non c'è proprio una terza scelta, non c'è, perché gli array sono dei contenitori sequenziali vicini tra l'altro, il memoria è un array, è proprio un blocco di memoria, le rappresentazioni con puntatori invece sono sparse, cioè una lista collegata è una lista di elementi in cui ogni elemento ha un puntatore a successivo, ma ogni elemento è in memoria in un punto diverso dall'altro, non sono vicini in memoria questi elementi, perché ci sono appunto le allocazioni dinamiche e i puntatori, e la rappresentazione quindi si dice collegata quando ci sono questi collegamenti. Tra l'altro questo non è vero solo per il C, la rappresentazione collegata, se vedete queste immagini, sono prese da libri che non fanno nessuna ipotesi di linguaggio di programmazione. Questo fa capire che i puntatori non è un concetto che sta solo in C++, è un concetto che sta in tutti i linguaggi ma a volte si chiama in modo diverso. Anche in Java c'è il concetto non di puntatore però di riferimento, ma in quel caso anche quello è un collegamento a un qualcosa che sta da un'altra parte in memoria. Quindi rappresentazioni collegate di alberi tipicamente di due tipi sono, questa è quella forse più utilizzata, tant'è che la useremo anche noi, la usiamo anche noi, abbiamo un puntatore alla radice. Ogni elemento dell'albero è formato da il contenuto, il dato, un puntatore al destro e un puntatore al sinistro. Questo forse ve lo faccio vedere meglio graficamente nelle slide che ho preparato come approfondimento, che avevo preparato per quando insegnavo al campus biomedico di Roma, è una struttura di questo tipo, vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco qua. Non guardate il codice a sinistra, quello lo discutiamo poi dopo, un giorno, è una struttura in cui abbiamo appunto un puntatore a una struct, una struct che contiene il tipo di nodo, il valore, il dato, e poi un puntatore a sinistro, un puntatore a destra, un puntatore a figlio a sinistro, che quindi poi alla fine, quando arriviamo ad un nodo foglia, il puntatore a figlio a sinistro conterrà 0 null di si voglia. E come si implementa questa cosa nel codice? Vediamo se ci sta un codice, oppure, vabbè, comunque, posso farvelo vedere anche al volo, come si implementa una cosa del genere. Questo è il vantaggio di usare note pado++. Una possibile implementazione di un albero con rappresentazione collegata è una cosa di questo tipo. Struct nodo, se contiene interi, per esempio, int value, che sta per il dato, e poi nodo star des, se siamo in italiano, se siamo in inglese, forse è meglio dire right e left, che sono il puntatore a figlio destro e il puntatore a figlio sinistro. Ragazzi, spero che adesso si veda ancora più chiaramente che l'albero è una struttura ricorsiva, perché l'albero è una struttura ricorsiva che consiste di nodi, a loro volta, che consistono in alberi destri e alberi sinistri, quindi vedete che stiamo praticamente riusando la definizione dell'astract che stiamo usando, che stiamo definendo, quindi un nodo è definito come un valore, è un puntatore ad un altro nodo a destra ed un altro nodo a sinistra. Quindi, alla fine, se siamo dentro un name, che ne so, siamo dentro un name, e dobbiamo creare un albero, per esempio, dobbiamo iniziare a creare la radice, e quindi, per esempio, questo è già un albero, perché questo è un puntatore ad una radice. Certo, se poi vogliamo allocarlo, dobbiamo fare new nodo, facciamo una cosa del tipo root value, che cosa ci sta qua? Ci metto 10, per esempio, ci metto 10, poi faccio root freccia right 0, e root freccia left 0, se questo è soltanto il primo inserimento, cioè in questo caso, dovrebbe essere questa cosa qui. Ecco qua. Questo. Questo albero qui è un puntatore, ad una struct di tipo nodo, che contiene il valore, e due puntatori nulli al destra e al sinistro, quello che abbiamo fatto qui. Se vogliamo invece espandere l'albero, beh, allora qua ci dobbiamo mettere un altro nodo, new nodo, e qua quindi fare con right value, ci mettiamo, non so cosa ci sta qua dopo questo, a sinistra ci sta 5, a destra ci sta 20, quindi a destra ci mettiamo 20, sincerizziamo a 0 i destri e i sinistri del nodo destro, e anche i destri e i sinistri del nodo sinistro. Chiaramente questo modo di scrivere, di popolare un albero, non è molto fulbo, perché essendo una struttura ricorsiva, ora capite forse l'esigenza della ricorsione, essendo una struttura ricorsiva, se adesso io volessi, per esempio, ho creato 5 e 20, se volessi creare adesso 15 e 25, questi altri due, dovrei scrivere una schifezza del tipo, guardate che ci provo, ma non vado avanti, dovrei scrivere una cosa del tipo, root, write, allora root mi ha fatto andare qui, write mi ha fatto andare qui, adesso devo andare qui, root, write, write, uguale new nodo. Capite perché ci servono gli algoritmi ricorsivi? Perché proprio noi qua, come fate a fare questo con un ciclo? Cioè come fate in un ciclo a dire che deve metterci un altro write qui? Proprio ragazzi, gli alberi si prestano benissimo, non dico che l'accetto è obbligata, ma sarebbe complicatissimo, non dico che non si può fare, si può fare con un ciclo, ma sarebbe complicatissimo creare un albero così, come stiamo facendo in maniera sequenziale, in maniera iterativa, sarebbe troppo complesso. Beh, intanto questo lo salvo nella cartella del corso. Problemi no, modulo C, approfondimenti, albero binario con collegato, collegato, con la presentazione collegata, C++. Ok. Quindi, questa è la rappresentazione con puntatori ai figli, ed è quella, diciamo, più utilizzata. Talmente utilizzata che è molto probabile, mi sento di dire, quasi sicuro, che il set del C++, almeno nelle varie implementazioni dei compilatori, sicuramente, sfruttano gli alberi rossoneri, e quegli alberi rossoneri sono implementati probabilmente con puntatori ai figli, sono veramente certo che sia così. Anzi, mi piacerebbe poi cercarlo, dipende sempre dal compilatore, ogni compilatore ha la sua implementazione. Però, normalmente, questa è la rappresentazione principe per scelta per implementare gli alberi. Poi ci sta anche la lista di puntatori ai figli, che è utile, in realtà, questo pure si usa, quando? Quando ci sono troppi figli. Quindi, l'albero non è binario, non è ternario, non è quaternario, non è inquinario, è un albero che ha tanti figli. E questo può accadere nei videogiochi, se il partizionamento spaziale potrebbe accadere, per chi di voi deve fare il gestore di collisioni, in quel caso no, perché il gestore di collisioni che vi ho detto di fare sfrutta la divisione in quadranti, quindi ogni nodo ha quattro figli. Ecco, praticamente, ragazzi, vi sto dicendo che chi deve fare Super Mario con le collisioni dovrà implementare un albero, un albero quaternario, un quad 3, si dice in inglese, e probabilmente, io consiglio di usare una rappresentazione come questa, in cui non avete figlio destro, figlio sinistro, ma avete quadrante top left, quadrante top right, quadrante bottom right, quadrante bottom left. E se invece ci sono più figli, perché chissà che cosa stiamo modellando, beh, allora non c'è altro da fare che fare una lista di puntatori figli, quindi ogni nodo contiene una lista di puntatori figli che puntano quindi a un numero arbitrario di figli, quindi potrebbe essere una lista di un figlio, di due figli, di tre figli, di n figli, ovviamente questa è la struttura forse più generale di tutte, perché consente di allocare la memoria è strettamente necessaria per quell'albero, mentre invece questa qui sfrutta le regole posizionali se D è un numero non definito, beh, questo vettore potrebbe essere anche molto lungo, però questi sono casi molto, diciamo, anche particolari, ok? Bene, a questo punto iniziamo a parlare dei primi algoritmi che, guarda caso, hanno una componente ricorsiva, anche se qua non si vede, qua si vede meglio, che ci consentono di visitare gli alberi, che cos'è la visita? La visita è un concetto che riprenderemo anche nei grafi, potete pensare alla visita come alla stampa, penso che, immagino, che la prima cosa che voi abbiate fatto, nel vostro primo programma al calcolatore, in cui avete implementato un array, lo avete stampato, giusto? Che significa stampare un array? Significa scorrere tutti i suoi elementi e accedere a quegli elementi e per esempio stamparli. Ecco, la visita di un albero è l'equivalente di quello che sto dicendo. Siccome l'albero non è una struttura sequenziale, già solamente scorrere tutti i nodi è un algoritmo che merita di essere discusso. Quindi non posso fare io un ciclo for generalizzato tipo quelli che ho usato recentemente a lezione for auto t for auto n in albero. Magari sarebbe bello fare un for generalizzato che scorre tutti gli elementi di un albero. Voi dite eh però nel set l'hai fatto, il set c'è detto che è un albero, è ok. Ma in quel caso chi ha implementato il set si è fatto carico anche di implementare un iteratore appunto che fa la visita dell'albero. Quindi è bellissimo questa cosa del C++ cioè gli iteratori servono per scorrere le strutture. Se la struttura è sequenziale non ci vuole niente a fare un iteratore basta fare più più al puntatore. Se la struttura è un albero io devo implementare la politica di scorrimento dell'iteratore. Questo lo fanno la fa chi ha implementato il set. E quindi quando voi fa quando noi abbiamo fatto for auto in set o anche nella map se quando useremo la map se avete usato la map dietro c'è una visita quindi la visita è importante. Ok, quindi visita ha lo scopo di accedere in maniera sistematica a tutti i nodi di un albero. Ora da un momento che l'albero è gerarchico non c'è una sequenza precisa di visita quindi in verità visite che hanno politiche diverse producono ordini sequenze diverse. Cioè io posso visitare un albero per livelli in profondità prima il figlio poi il padre poi il figlio prima il figlio figlio poi il padre prima il padre poi il figlio poi il figlio cioè ci sono varie gradi di libertà varie differenze che posso implementare negli algoritmi di visita quindi non c'è un algoritmo di visita ma ce ne sono diversi a seconda delle politiche di visita. Diciamo che l'algoritmo più generale che appunto si chiama visita generica prevede di estrarre ciclicamente iterativamente un nodo da da questo albero visitarlo e poi andare nei suoi figli però a me questo algoritmo non dice nulla perché è talmente generico che appunto non implementa quelle scelte di cui dicevo prima vai prima a destra prima a sinistra per livelli oppure in profondità. l'unica cosa che è importante e il motivo per cui mostro questo slide è che tutte le visite tutte avranno una complessità O grande di N perché? Perché lo scopo della visita è quello di visitare un nodo uno e una sola volta quindi se in un albero ci sono N nodi e ogni nodo viene visitato una sola volta la complessità sarà sempre O di N quindi vedremo algoritmi ricorsivi uno dice oh cavolo ricorsivo ma devo fare il metodo di induzione oppure il teorema master no non è necessario perché proprio intuitivamente si capisce si può intuire che la visita ha una complessità O grande di N se l'albero è rappresentato opportunamente cioè se l'albero è rappresentato in maniera tale che io per andare da un nodo a un suo figlio ci metto un attimo però questo diciamo che vale tutte le strutture che abbiamo che abbiamo appena discusso quindi vediamo adesso le visite di cui vi parlavo prima cioè che hanno un preciso una precisa politica di di visita ci sono due tipi due famiglie grandi di visite tra l'altro anche nei grafici sarà così le visite in profondità e le visite in ampiezza la parola profondità ci fa capire che la visita cerca di andare dritto dritto verso le foglie prima e poi esplora il resto dell'albero quindi una visita che va al dunque diciamo va verso le foglie in ampiezza invece sarà una visita che andrà diciamo per livelli quindi prima questo livello poi questo livello poi questo livello e in ultimo se qua ci sono altre foglie in ultimo verranno visitate le foglie quindi prima facciamo la visita ricorsiva e poi facciamo la visita in ampiezza o per livelli la visita ricorsiva scusate la visita in profondità la visita in profondità è una visita ricorsiva perché è una visita ricorsiva? e questo mi viene molto bene questo codice che abbiamo scritto prima perché se io devo andare nella foglia e se io devo andare dritto dritto verso la foglia significa che devo fare root freccia right freccia right freccia right freccia right freccia right capite che questa cosa si presta benissimo a un concetto ricorsivo cioè vai a destra e continua ad andare a destra quindi vai a destra e adesso che sei lì vai di nuovo a destra e quindi è come se io stessi richiamando la stessa azione vai a destra vai a destra vai a destra fino a che non trovi una condizione di stop ricordate la ricorsione trova ci vuole uno stop a un certo punto lo stop sarà che non c'è più dove andare ok ed effettivamente è quello che vediamo qui la visita ricorsiva in profondità prevede che intanto ci fermiamo quando ci fermiamo quando il nodo è vuoto che significa il nodo è vuoto ricordate la definizione ricorsiva dell'albero l'albero può essere o un nodo vuoto un insieme vuoto oppure un nodo che ha dei figli che sono sotto alberi quindi alberi si stessi quindi questa è la condizione di stop se il nodo è vuoto cioè se l'albero è vuoto fermati altrimenti quindi vado avanti return significa esci da qui quindi vado avanti visito il nodo dipende però dalla tipo di visita visito per esempio prima il nodo in cui mi trovo poi vado a sinistra e poi vado a destra e andare a sinistra significa di nuovo chiedersi se è vuoto se è vuoto non faccio niente altrimenti lo visito e vado a sinistra avete capito adesso perché funziona dicevo prima nel codice vai a destra vabbè vai a sinistra dipende da dove andiamo prima vai a sinistra vai a sinistra vai a sinistra vai a sinistra finché finché non ti fermi perché è vuoto beh scriverlo con un ciclo non è facile è possibile ma non è facile scriverlo così invece è banale perché appunto visita il nodo e vai a sinistra poi vai a destra ma andare a destra significa comunque visitare e andare a sinistra eccetera eccetera vediamo adesso degli esempi ok in realtà questa visita in profondità ha delle varianti in funzione del fatto che ci sia prima la visita del nodo oppure prima la visita a sinistra oppure prima la visita a sinistra la visita a destra e poi la visita del nodo cioè mi spiego tre varianti quindi questa è la nostra situazione abbiamo un nodo e abbiamo un sottolabbero sinistro e un sottolabbero destro se non ce ne abbiamo significa che l'albero è vuoto e se l'albero è vuoto significa che dobbiamo terminare quindi manco si pone il problema di dove andare prima quindi supponiamo che l'albero non sia vuoto quindi abbiamo dei sottolaberi in preordine significa che prima quello che abbiamo visto in figura si visita il nodo e poi si va nel figlio sinistro e poi nel figlio destro in ordine invece significa che prima si va nel figlio sinistro poi si va a visitare il nodo attuale e poi si va a ricorrere nel figlio destro post ordine significa prima i figli e poi il nodo adesso facciamo degli esempi esempi per esempio questo albero che ho trovato su internet non mi andava a disegnarlo questi sono alberi binari voi dite ma queste visite che abbiamo appena definito vengono per tutti gli alberi no queste sono visite per alberi binari si possono estendere gli alberi ternari quaternari però diventa un po' più complesso il codice ma alla fine ragazzi il concetto è sempre questo vuoi visitare prima il nodo e poi andare nei figli oppure vuoi visitare prima i figli e poi andare nel nodo attuale dove ci troviamo nel caso di albero binario le cose sono più chiare più immediate quindi facciamo per esempio la visita in preordine in preordine significa prima visitare il nodo e poi andare nei figli la visita là scriverò qui quindi parto dalla radice quindi ecco forse questo non è stata una idea eccellente non voglio suggerimenti perfetto nessun suggerimento quindi se io scrivo no come non detto e vabbè non è un problema posso splettare lo schermo posso fare qualche cosa posso scrivere qualche cosa qui c'è un modo per scrivere qualche cosa una specie di nota note puoi dare delle note qualcosa sticky notes sticky notes sta da un'altra parte perché se io scrivo qui continuerò a scrivere e voi non vedete quello che scrivo e vabbè non è un problema prendo questa immagine che è un'immagine svg un'immagine vettoriale chissà se chissà se riuscirò a metterla dentro un powerpoint interessante non la vede giustamente perché è un'immagine vettoriale penso che me la me la caverò con lo split dello schermo lo split dello schermo lo ottengo condividendo perfetto forse avrei dovuto farlo dall'inizio invece di complicarmi la vita perfetto quindi visita in posto preordine preordine prima nodo attuale poi devo andare a sinistra e poi devo andare a destra devo andare non visitare quindi devo fare la visita a sinistra quindi vado a sinistra e la visita dice che devo visitare quel nodo quindi 7 dice che devo andare a sinistra devo visitare quel nodo quindi 2 ora dice che devo andare a sinistra ma a sinistra non c'è niente, a destra non c'è niente quindi torno su torno su, ero rimasto in sospeso la ricorsione così funziona, si rimane in sospeso perché ero rimasto in sospeso? perché ero andato a sinistra adesso devo andare a destra quindi vado a destra, visito il nodo perché è preordine quindi 6 vado a sinistra, visito 5 vado a destra, visito 11 finisco, finisco finisco, ero rimasto in sospeso ero andato a sinistra, adesso vado a destra visito 5, a sinistra non c'è niente, vado a destra visito 9 a sinistra c'è 4 a destra non c'è niente, si chiude e si chiude, questa è la visita in preordine visita in ordine visita in ordine quindi prima devo andare a sinistra, poi devo visitare la radice di questo albero e poi devo andare a destra quindi parto da 2 ma non visito 2 devo prima andare a sinistra sono in 7 non visito 7 devo prima andare a sinistra sono in 2 non visito 2 devo prima andare a sinistra quindi vado a sinistra però non c'è niente quindi visito 2 vado a destra non c'è niente quindi devo risalire risalgo adesso, siccome sono andato a sinistra posso finalmente visitare 7 però devo andare a destra adesso che sono andato a destra non posso visitare il nodo devo prima andare a sinistra Prima andare a sinistra, visitare 5, destra, salgo, adesso posso visitare 6, vado a destra, quindi 11 perché non c'è nient'altro, finisco, finisco. Adesso posso visitare 2 perché sono andato, ho finito di visitare l'albero di sinistra. Vado in 5 ma non posso visitarlo, devo prima andare a sinistra ma non c'è niente, quindi lo visito. Vado a destra, non posso, devo prima andare a sinistra ma c'è soltanto questo, quindi lo visito, adesso posso visitare 9. Questa è la visita in ordine, quindi prima visito il sotto albero sinistro, poi visito la radice, poi visito il sotto albero destro. Visita in post ordine, devo prima andare a sinistra, visitare il sotto albero sinistro, visitare il sotto albero destro e solo alla fine visiterò la radice. Quindi già questo mi fa capire che 2, questo sarà l'ultimo elemento visitato, però non ci anticipiamo. Quindi devo andare a sinistra, devo andare a sinistra, devo andare a sinistra, poi devo andare a destra e posso visitare finalmente questo. Vado, torno sopra, devo prima andare a destra, sono qui, devo prima andare a sinistra, sono qui, devo prima andare a sinistra, non c'è niente, a destra non c'è niente, quindi 5. Vado, torno sopra, ma devo prima andare a destra, quindi 11, sono qui, finalmente, essendo andato sia a sinistra che a destra, avendo finito le visite, posso visitare 7. Sono qui, non basta, devo prima andare a destra, devo prima andare a sinistra, devo prima andare a destra, devo prima andare a sinistra, c'è solo questo. Devo andare a sinistra, devo andare a sinistra, non c'è niente con i 9, risalgo quindi 5 e risalgo e rinuovo quindi 2. Questa è la visita in post ordine. Come mai più breve, mi sono saltato qualcosa? Ha dimenticato il 6. Il 6, quindi 2, 5 e 11, dopo 5 e 11 c'è il 6, grazie. Sì, la lunghezza non era la stessa. Professore, scusi, in preordine ha sbagliato una S7 e 5. Questo? Ci sono due sette, ha ragione, è un dislessia, quindi in preordine, quindi 2, 7, 2, 6, 5 e un 5. Grazie. Perfetto. Ok, facciamo un altro esempio, però questo lo chiedo a voi. Vi chiedo il preordine. Qualcuno di voi se vuole cimentare in... Queste sono domande che faccio l'orale, quindi provate a cimentarvi così se emerge qualche perplessità ne parliamo. Tra l'altro manca solo un minuto, quindi forza qualcuno che è veloce mi fa una visita in preordine di questo albero qui. Ecco qua, di questo albero qui. Forza. Chi vuole provare? Dai, non avete niente da perdere. Allora, 10, poi 5, 4, poi risale sopra verso 5, quindi 7, 6, poi risale quindi 9, 8, poi risale all'inizio quindi 10. Eh, 10, l'avevamo visitato all'inizio. Ah, giusto, quindi 14. Sì. 12 e poi 15. Perfetto. Perfetto. Questo è un esempio di domanda che è stata risposta adeguatamente all'orale. Quindi la visita in preordine è esattamente questa. Il tempo è finito, non posso chiedervi altro, però la prossima volta riprendiamo da qua, magari facciamo un altro esempio e continuiamo a parlare di alberi. Quindi interrompo la registrazione. Terribile questa vista in split view, però è stata utile. Grazie. Grazie. Grazie.